adesso mi sentite mi è riuscito a sentire o finalmente meno male buongiorno a tutti e benvenuti da borsari strumenti musicali sono stefano e oggi realizziamo questo breve video per imparare a capire insieme che cos'è la fase sostanzialmente ho voluto iniziare così in modo un po buffo perché quello che avete sentito è il rientro il disco larsen ok che è una cosa fastidiosissima ed è legato soprattutto all'utilizzo di strumenti acustici quindi con una cassa armonica e all'amplificazione il rientro fondamentalmente è il fatto che il suono comincia a correre avanti indietro tra la cassa armonica della chitarra e l'amplificatore e genera questo rumore che diventa sempre più alto sempre più forte su molti strumenti amplificati ormai viene in dotazione lo faccio vedere in questo caso abbiamo un fishman un presis viene in dotazione questo bottoncino sotto il quale ci può essere scritto phase in questo caso phase inverter e serve esattamente per eliminare il rientro sostanzialmente che cosa fa senza entrare troppo nel dettaglio inverte specularmente la forma dell'onda in uscita quindi di fatto annulla la possibilità del rientro del fischio molto utile soprattutto quando si suona amplificati dal vivo servono volumi alti io in questo caso la chitarra è amplificata come lo era prima ma non mi genera più quel rumore odiosissimo va un po gestito ovviamente non sempre funziona al cento per cento dipende molto dalla vicinanza con l'amplificatore dalla potenza dell'impianto però devo dire che aiuta veramente tanto ok bene con questo è tutto spero di aver chiarito il mistero di questo bottone che tutti mi chiedete ma cosa serve questo qua sito fase eccetera eccetera serve per eliminare il larsen eliminare i rientri e i fischi io direi che vi ho detto tutto sulla fase se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al nostro canale youtube e veniteci a trovare da borsari strumenti musicali rotondo antonio torri 9 barra bc a bologna alla prossima